Ciao, sono Concetta Crucitti, sono agente immobiliare in Remax Platinum e sono qui da quattro anni. Sono arrivata in Remax Platinum tramite i social, quindi tramite Facebook. Cercavo lavoro, in particolare mi piaceva fare qualcosa di nuovo, quindi un corso. E niente, poi ho visto Remax, non sapevo sinceramente neanche di cosa si trattasse. Ho cliccato, quindi mi hanno contattato, ho fatto il colloquio e da lì è iniziato tutto. Ho fatto il corso, mi sono affiliata e niente, ho cominciato a prendere incarichi fin da subito, cosa che non mi aspettavo completamente. Da lì ho avuto sempre più fame, diciamo, quindi fame di conoscenza, fame di sapere. Disturbavo tutti, compreso Guido, che comunque lo ringrazio sempre per l'aiuto e il supporto che mi ha sempre dato. Guido ovviamente è il nostro broker, ma oltre ai broker veramente anche è un amico, quindi tutti quanti in agenzia ci siamo sempre fidati di lui, lui ci ha sempre aiutato su qualsiasi cosa ed è stato sempre disponibile. E poi comunque mi sono messo sempre in contatto con geometri, notari, avvocati. Quindi diciamo non mi sono mai fermata, ho partecipato a qualsiasi tipo di formazione e da lì sono iniziate giustamente le esperienze, le competenze, fino ad oggi. Perché scegliere Remax Platinum? Innanzitutto perché Remax sinceramente è un colosso. Noi consulenti abbiamo un grosso aiuto in Remax perché quando non sappiamo qualcosa ci rivolgiamo a tutti i professionisti che abbiamo attorno. E le persone si sentono magari più protette, più sicure e si affidano a noi anche per questo. Perché un cliente dovrebbe scegliermi? Allora innanzitutto perché sono affidabile, precisa e comunque professionale. Anche perché sono una persona molto empatica, a volte anche troppo. Mi metto nei panni dell'altra persona e quindi cerco di aiutarli dando anche consigli e quindi il consulente immobiliare serve anche per questo secondo me. In generale io chiedo alla fine di ogni visita, di ogni compravendita, di qualsiasi cosa che faccio il motivo per cui hanno scelto me e comunque tutti mi dicono perché sei sincera, perché abbiamo fiducia in te e perché comunque sei stata sempre disponibile e poi sinceramente perché ci mette il cuore.